Sì, grazie Presidente, veramente pochi, una manciata di secondi, solo per ringraziare l'Aula, ancora una volta il Segretariato, gli Uffici, la Commissione Scuola, ringraziare anche i collaboratori della Commissione. È un regolamento di cui si sentiva la necessità, perché veramente le richieste di partecipazione alla vita quotidiana delle scuole erano continue, ma non sempre c'era, come dire, l'assunzione di responsabilità da parte di chi poi vive la scuola quotidianamente di favorire la partecipazione volontaria. Non è, come ho detto prima, un sostituirsi all'amministrazione, è un collaborare con l'amministrazione stessa, proprio per rendere più serena la vita dei bambini che vivono le nostre strutture. Quindi ancora grazie, spero che sia veramente funzionale a quella che è la normale vita didattica educativa, grazie. Ovviamente il voto del Movimento 5 Stelle sarà un voto favorevole. Grazie.